Ah che bella luce oggi, una breve nota autobiografica. La mia vita sentimentale, familiare, professionale soprattutto, è stata totalmente devastata dalla mia decisione di testimoniare contro una persona accusata di abusi sessuali su delle bambine, persona che poi fu condannata, persona però con un certo potere e un certo grado di conoscenza all'interno sia della mia famiglia sia e soprattutto nel mondo dell'editoria. Da allora le porte hanno cominciato a chiudersi perché ho scritto anche nell'ultimo numero del mio giornale che poi hanno chiuso, la lobby dei pedofili è veramente potente, è veramente potente. La mia vita ne sa qualche cosa e purtroppo sarà così, finirà così.